Ragazze, oggi si va a Gardalan! Presto però vi dovete mettere l'abbigliamento adatto per l'occorrenza perché a Gardalan è tutto pronto per Halloween! Pronti per andarci a divertire? Sì! Gardalan, stiamo arrivando! Siamo arrivando! Ma mica avete paura di incontrare tutti i posti che ci sono a Gardalan? Guardate che ho guardato! Wow! Sapete che lì sono tutti travestiti da paura? Ma io sono lo zombie! Scusate, sono lo zombie! Eccoci arrivati a Gardalan! Esatto, è tutto a tema Halloweenoso! E' certo! Guardate qui! Vabbè! Io volo! Ludo, ma dove vai? Ludo, venga! Ok, adesso prima di tutto dobbiamo andare a pranzare perché tengo un leggero con l'anguorino! Prima tappa andiamo a pranzare perché è orario di pranzo ormai! Esatto! Sono le quattordici! Ragazzi, pensate che se io mi guardo allo specchio ho paura! Perché ragazzi, poi andiamo a giocare! E abbiamo anche appuntamento con dei nostri amici! Tanti e leone! Sì, che tra poco vi presenteremo! Esatto! Ragazzi, ragazzi, io e Sofì abbiamo deciso che faremo l'oblivion! Eh, avviati da sola perché ho paura! Noi zumbi non ha paura! Ludo, io e te cosa facciamo? Le barchette veloci? Sì, quello è... Le barchette volanti! Eccoci qui! Arrivati all'ingresso! Ragazzi, oggi devo fare lo Jumanji! Devo! Andiamo! C'è molto divertimento oggi! Ludo, sei carica? Yes! Sei carica? Yes! La gente mi guarda male! Eh no, ragazzi, sono finti, non sapete! Oh, ma bellissimo! Guardate, ragazzi! Auguri, auguri! Aguri, guarda lei! Di Halloween! Esatto! Auguri! Eh? Il ventesimo anno di Halloween! Ah, di Halloween! Ho capito di casa! Scusate, scusate! Di Halloween, di Halloween! Ehi, ragazzi! Avete già preso il nostro libro? Aurare il tuo picco e porta ed è tanto sospeso? Se non l'avete ancora fatto, fatelo assolutamente! Ve lo ludo? Perché noi ci vediamo il 19 novembre a Milano, nel megastore della Mondadori, in piazza Duomo, alle ore 15.30, per firmare tutte le vostre copie del nostro libro e incontrarvi... Tutti i libri! Wow! 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 Ma fermi, fermi! Ma di quanto qui ci sono i ragni? Questa volta ci sono solo le zucche! Wow! Wow! Ragazzi! Perché ogni anno addobano in maniera diversa, eh! Esatto! Ludo, oggi dobbiamo fare lo ciuwanji! Lo ciuwanji! Non è che ho fatto, ma io no! Lo devo fare! Andiamo! Dai, ragazzi! Guardate, prezzemolo! Wow, prezzemolo! Eccoci qua, arrivati all'ingresso! Wazio, wazio! Date il vostro abbonamento e entriamo, dai! Ok! Tieni, papà Pino! Papino è un abbonamentino! Oh, fu un crino! Stavo per cadere! Guarda! Wow! Guardate qui! Si festeggia il ventesimo anno di Halloween a Gardala! Esatto! Dai, dai, dai! Nessù! Fotina prima! Vai, Ludo! Foto, Ludo! Foto, Vini! Foto! Ehi! Ciao! Ecco Sofì! Ciao! Ok, adesso! Ciao Sofì! Come va? Pronte? Cariche per andare sulle giostre adrenaliniche? Vai, Sofì! Vai, Sofì! E qui c'è Leone! Ciao, Leo! Dov'è Tommy? Dov'è Tommy? Ciao, Tommy! Amore! Come fai? Sei carico? Sei pronto? Andiamo, dai! Amore! Grazie a tutti. E' arrivato il momento di pranzare. Cosa vuol mangiare? Fatatine giuste. Va bene. Allora ragazze prendete posto? Io voglio. Dove ti siedi tu? Qua vicino mamma. Dove andiamo dopo ragazze? State decidendo la prossima giostra? Anzi la prima giostra. Quindi come prima giostra con panda. E' arrivata la tua pizza? Sì è arrivata e sto mangiando ragazzi. Sto mangiando. Ludo lo sei preso tu? Coca e cotolette e patatine. Ecco qui Ludo è arrivato anche per te. Come sono queste patatine? Buone? Che buone. Tutta la forchetta non c'è? Non si usa la forchetta? Che patatine. Ragazze siete cariche per andare sulla prima giostra? No perché abbiamo mangiato. No perché abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato l'acqua di gioia. Sì. Mi sa che le patatine ci sono rimaste. Aiuto chi è? No vabbè io non potrei mai andarci di sopra. Ma manco a pagamento. Ecco Lulu. Ciao Ludo. Guarda quante cose ci sono. Io ho già tutto. Grazie per le informazioni ho già tutto. Guarda Aurin. Guarda qui. Che belle quelle maschere. No non mi piace. Fammi vedere. Mettiti quella maschera lì. No. Quella della Befana lì. No. Questa questa. No. Guarda che bella. Fammi vedere come ti sta. No no. Dai fammi vedere. No guarda. Mettila bene. Vediamo. No basta. Dai. Beh non c'è tanta differenza eh. No basta. No. No. Adesso mi hai preso. Adesso mi hai offerto. quella lì. Vediamo. Vediamo come ti sta. No Dio. No no no. Non l'abbiamo visto. Fammi vedere. Non mi interessa se non... Fammi vedere. Beh. Sei carina. Dai. Con te non ci va lui. Con te non ci... No no no. Ludo. Come va lì su? Bene. Andiamo? Andiamo dai. Andiamo a fare la giosta. Ancora non abbiamo fatto neanche una giosta. Ci muoviamo? Vogliamo andare. Ciao ciao. Ciao bellissime. Andiamo. Giù mangi. Voglio fare la giosta nuova. La voglio fare. Tu ancora non l'hai fatta eh. No. E appunto la voglio fare. Basta. La voglio fare. O la faccio adesso. O la faccio il 31. No. Che è Halloween. No. La facciamo adesso. Adesso. Esatto. Se no c'è fila la facciamo adesso. No no. Quella con la mano. Con la mano. Ok. Allora. Sì sì. Dobbiamo saltare la coda. Dobbiamo saltare la coda. Sì. Andiamo a fare la fila. Non riesco. No io. Io me ne faccio. Andiamo dai. Facciamo la fila per le tazze. Andiamo Ludo. Ludo fai una foto. Facciamo la foto. Ludo. Ludo. Sei pronta per salirci su? Siete pronti? Dovete girare questo. Siete pronti? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aiuto, piano, 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 piano! Non devo urlare, non devo urlare, non devo urlare! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ciro! No! No! Aiuto! No! 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 Aiuto a girare! No! Movistò ما ci sto parlando ragazzi! Nadia a paura! Io non c´要 aiuto! vediamo chi usa di più non accomodarsi all'uscita e chi ce la fa? il piede? andate andate barchetta? si barchetta viva viva sulle barchette di là di là Ludo adesso cosa faremo? la barchetta esatto e questa volta ci andrò io non mia mamma ci andrò io non sono pronta ma c'è una fila incredibile è meglio così che c'è fila non sono presamente pronta ciao ciao benissimo forza 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 vi siete messi in fila? dove stiamo andando Tommy? in pranzo nel frutto sul bruchetto ruba me la dove vai? vai 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 si ok ok buona vittima hai paura Ludo? hai paura? ma su che il bruchetto non è pauroso guarda guarda pronti? e chi è sto qua? apri? aprile pronti da? spero che a tutti sono molto pronto entra e aprite non è la mano grava grava ciao attenzione attenzione si appassiano le protezioni pronti? si sono pronti ho paura ho paura ho paura no 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 non assi oh vanno uo 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 guarderia uo 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 Sì, sì, sì. tutto ok ragazzi tutto ok allora tra un po' si parte ecco tommy ciao tommy tommy avanti a noi sono pronti sono carichi no 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 paura a me gotti 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 a me polla i gotti C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? Si, non c'è un'altra cosa? Non mi senti mai? Ma la mia è una cosa? ehi dove andate? cosa vorrà dire zombie zombie? andiamo a vedere dai scusa ma la traduzione sarebbe zona delimitata agli zombie? andiamo a vedere dai ma chi ci crede? andiamo a vedere ragazze chi attraversa la zombie zone per prima e ha il coraggio di farlo vince si ma non uscire c'è una zona no non devi uscire c'è una zona io attraverso ma non devi uscire ma non devi uscire ma non puoi uscire ma non puoi no non puoi giustamente zombie ossa e negro scusatemi e sennò non moro non va anche ma perché avete così paura? ma guarda stanno arrivando le vostre amiche ma è vero o è finto? vediamo vediamo se dà segni di vita ma vuoi un palloncino? no no grazie mamma mia mamma mia No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ludo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no andare a casa perché sono stanca morta e non ce la faccio più tu non sei stanca ludo stanno arrivando di nuovo gli zombie eccoli qua eccoli qua aiuto io qua il 31 non ci vengo te lo dico si guarda che ci dobbiamo ritornare porto un'arma porto questa il 21 ottobre dobbiamo essere tu sei matto grazie un altro come lo vuoi tu ludo grazie ciao grazie mille mantenilo bene che buoni ludo molto buono buono sono sporca attenti che vi cola tutta la cioccolata addosso eccoci qua qui oggi ci sono tanti anicornine ma no ciao piccoline ciao 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 benissime i mosti non si possono avvicinare perché c'ho l'uofe quindi tu dici anche perché sennò il bacchetto è un po inquietante il ritorno tutto spento no bello e questi alberi qui e muovono gli occhi come la mettiamo carini 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 guarda si che li muovono hai visto guardate qui che meraviglia la casa tutta buia è bellissima mamma potrai qui su un pezzo? eh si non ricordiamo queste cose però adesso c'è un sacco di gente meno tale ragazze che ne dite di fare 24 ore nella casa di prezzemolo di notte? no grazie non ci tengo unicornini scriveteci giù nei commenti nella community se volete che Arun e Ludovica facciano questa challenge andiamo ma che bello? qui il trentuno non ci vengo ma cosa mi fai? però quanto bello è il clima che si respira qui ad Halloween bellissimo ma ragazzi c'era poi Hitto che ha detto Sofia non vuoi un palloncino che poi queste persone qua che poi sono travestite vanno dalle persone che hanno paura come non detto perché poi si è fiondato su di te appena ti ha vista mamma mia così lo vuoi un palloncino? ma chi lo vuole un palloncino? a te dà un palloncino e se li incontrassimo anche adesso? no mamma no rientrando mamma no mamma no speriamo di no no mamma no io ho l'arma anche perché Ludo ha il terrore mamma 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 vuoi il mio mantello? oh dov'è il mantello? no mamma mamma no mamma no io ce l'avevo però poi quando ho tornato sotto la zon zombie non ce l'avevo non è che la zon zombie me l'ha preso? eh buttarsi va bene dai adesso salutiamo vabbè ragazzi il video finisce qui ne vi salutiamo speriamo che questo video pauroso vi sia piaciuto e madame gigetta vabbè ragazzi diavoletta vabbè ragazzi iscrivetevi attivate la campanellina e lasciate tantissimi colligioni in su fatelo eh ciao ciao e adesso? andiamo via prima che arrivi qualche altro zombie presto c'è col culo 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 Autore dei sovrapposti